Ciao, sono Ivan e vi parlo dall'assistenza dell'officina Lenzia Automobili e vi faremo vedere come collegare il vostro telefono con il sistema Bluetooth della radio. La prima cosa da tenere ben presente è di attivare sul proprio smartphone l'opzione Bluetooth di modo che l'unità radio lo possa riconoscere e comunicare. Una volta attivato il Bluetooth sul vostro smartphone, semplicemente andando sull'unità radio, andiamo sul menu principale, ovvero premendo il tasto setup, ci posizioniamo con il cursore su telefono e Bluetooth e con Enter diamo l'avvio alla funzione. Quando si apre questa schermata basta posizionarsi sempre con il nostro cursore su Accoppia nuovo dispositivo e a questo punto l'unità comincia a cercare il dispositivo. Una volta che ovviamente si arriva a questa schermata, sul proprio telefonino, cliccare sull'opzione, in questo caso Nissan Connect, e vi arriverà contemporaneamente un messaggio di un codice e di una password sul vostro telefonino e ovviamente basta premere poi sulla schermata sia del telefonino che del radionavigatore l'ok. A questo punto il vostro smartphone è collegato con il radionavigatore. Vi ringrazio di aver visto questo nostro video e ovviamente per qualunque necessità vi potete rivolgere presso il Viale Marconi numero 64 all'assistenza all'enziato mobili.